Le divisioni tra i cristiani mentre feriscono la Chiesa, feriscono Cristo. All'udienza generale in piazza San Pietro, Papa Francesco ha messo a fuoco ancora una volta il dramma e la vergogna della divisione tra i discepoli di Cristo, lacerazioni che affondano le proprie radici nella storia, tante volte segnata addirittura da guerre, ma che oggi non devono impedire l'ecumenismo spirituale, la volontà di camminare insieme e di pregare l'uno per l'altro. Quello che è certo è che in un modo o nell'altro dietro queste lacerazioni ci sono sempre la superbia, l'egoismo, che sono causa di ogni disaccordo e che ci rendono intolleranti, incapaci di ascoltare e di accettare chi ha una visione o una posizione diversa alla nostra. Davanti a tutto questo il Pontefice ha chiesto di pregare e di coltivare una rinnovata apertura, cogliendo tutto ciò che di valido e di positivo ci viene offerto anche da chi si pone su posizioni differenti. Il Signore ha proseguito, ci chiede di non fissare lo sguardo su ciò che divide, ma piuttosto su quello che unisce. Si dice che non si deve parlare di cose personali, ma non resisto alla tentazione. Stiamo parlando di comunione, comunione fra noi. E oggi io sono tanto grato al Signore perché oggi fa 70 anni che ho fatto la prima comunione. Ma fare la prima comunione, tutti noi dobbiamo sapere che significa entrare in comunione con gli altri, in comunione con i fratelli della nostra Chiesa, ma anche in comunione con tutti quelli che appartengono a comunità diverse ma credono in Gesù. Grazie. 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 Grazie.